Ciao a tutti e bentornati in un nuovo Buota Etina Day, cosa mangio in un giorno durante la mia dieta? Anche oggi faremo delle ricette facilissime e velocissime da preparare. Partiamo subito dalla colazione, una colazione davvero super super semplice, nulla di che, in realtà ho preparato una ciotola di yogurt greco, nella quale ci ho messo dei cereali integrali, in alternativa potete utilizzare i muesli, qui andate a vostro piacere. Ho messo delle nocciole, quindi frutta secca e poi un cucchiaino di sciroppo di agave e questa è stata la mia colazione. Passiamo al pranzo, ho preparato queste bowl con pomodorini, cetrioli, tonno e uova sode. Quindi ho tagliato 4 pomodorini, un cetriolo, una confezione di tonno, utilizzo questa perché mi sembra che abbia meno olio rispetto alle altre, non lo so se è una mia impressione, e due uova sode, che faccio cuocere in questo modo. Quando l'acqua bolle metto le uova, le faccio stare 9 minuti, dopodiché spengo il fuoco, le lascio raffreddare in acqua fredda e così viene un rosso bello acceso e non si ossida, quindi non diventa verde. Ma passiamo allo snack, finalmente uno snack salato, vi faccio vedere come fare queste gallette alla pizzaiola, buonissime una tira l'altra. Prendete 4 gallette di mais, perché sono più buone, le cospargete con un po' di pomodorino, ci mettete anche della mozzarella, potete anche non mettere la mozzarella se non vi piace, un po' d'olio, un po' di origano e mettete a forno ventilato a 200 gradi per circa 10 minuti fin quando la mozzarella si scioglie e credetemi è uno snack buonissimo, uno tira l'altro. Passiamo alla cena, anche qui una cena velocissima, ho fatto del cavolfiore impanato con riso e due mozzarelline. Ho cotto prima di tutto il cavolfiore in abbondante acqua salata e cavolfiore per circa 10 minuti, non si deve ammollare, quindi bastano 10 minuti, dopodiché li ho fatti raffreddare, li ho scolati dalla propria acqua e li ho messi in una ciotola dove ci ho messo due cucchiai di olio, ho messo del pangrattato, un po' di sale, un po' di pepe e poi ho messo tutto su una teglia con carta forno a cuocere in forno a 200 gradi ventilato per circa 15-20 minuti. Poi ho servito con del riso basmati e due mozzarelline. Potete praticamente mescolarlo insieme, la mozzarella si scioglie e viene fuori davvero un riso pazzesco perché poi il cavolfiore dà quella croccantezza che non guasta mai. E questa è stata la mia cena. Spero tanto di avervi dato come sempre delle idee e degli spunti. Io vi mando un grosso bacio e ci vediamo presto in un prossimo video. Ciao!